ciao ariete benvenuto andiamo a vedere con le mie carte cosa ti sta per accadere quindi quali sono i prossimi eventi a breve diciamo da qui a breve da qui a breve significa dal momento in cui tu vedrai questo video perché non do tempi quindi avrà validità dal momento della presa visione dal momento in cui tutti ci imbatterai ok detto questo tarocchi e oracoli partiamo un attimo da queste carte dagli oracoli come vedi questo è un mazzo di carte che ho creato io se sei interessato interessata ad avere questo mazzo di carte trovi tutte le informazioni giù nella descrizione di questo video oppure puoi chiedere informazioni ulteriori mandando una mail a le carte di penelope chiocciola gmail.com ok partiamo subito e chiediamo per il segno zodiacale della riete cosa sta per accadere a queste persone per il segno zodiacale della riete no sono scivolate di mano a me allora segno zodiacale della riete cosa sta per accadere a questo segno zodiacale eccola no via troppe carte le scelgo io ok quando gli guarda sono forti state appena dico loro le scelgo io me la prendo io quella che voglio ta esce la carta allora amicizia la prima carta cosa sta per accadere segno zodiacale della riete quali sono le prossime novità per questo segno zodiacale ok amicizia passaggio passaggio cosa sta per accadere segno zodiacale della riete c'è un indecisione ok qui c'è da passare da una situazione ad un'altra quindi mi viene da pensare qui dobbiamo apportare dei cambiamenti a un qualcosa vedi l'unione magari abbiamo dato la parola a qualcuno per qualcosa non so quindi c'è un cambiamento se l'altro da fare cambiamento che però crea ansia qui c'è un cambiamento che crea ansia proprio perché c'è una forte indecisione qui non si sai che fare non si sa che cosa fare quindi magari vorremmo fare qualcosa che qualcuno già sta facendo però temiamo un pochino non siamo molto sicuri da andare per quella strada o ancora qui ci potrebbe essere proprio un accordo una situazione un'alleanza con qualcuno che dobbiamo fare o che abbiamo fatto che però ecco non sta andando troppo bene magari arrivano i primi screzi o viceversa siamo un po titubanti un pochino incerti su questa relazione su questa amicizia su questa amicizia su questo accordo insomma qui c'è un qualcosa che alla riete gli crea un po d'ansia e la riete non è un segno zodiacale che si fa troppe fippe mentali che si crea problemi di qualsivoglia tipo cioè la riete il segno schietto è proprio il segno della riete è bello bello schietto deciso piglia parte boom 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 iniziale anche troppo anche troppo a volte dovrebbe contare fino a 10 prima di farti però quello parte capito quindi è molto così invece c'è molta indecisione ora io ti dico la verità qui l'indecisione potrebbe anche essere da parte di un'altra persona quindi qui tu devi fare l'accordo con qualcuno ma la persona in questione l'è indecisa l'è lì un po titubante sì no lo so vedrò forse sì insomma ecco ci sta ci sta anche questo vediamo un po i farocchi cosa ci aggiungono a questo quadro capita riete sicché insomma andiamo a vedere un po i farocchi qui mi fanno vedere una situazione ora vediamo che cosa effettivamente accadrà come se mi volessero un po in stradare li vediamo per il segno zodiacale della riete cosa sta per accadere segno zodiacale della riete cosa sta per accadere ok il 6 di bastoni 6 di bastoni cosa sta per accadere al segno zodiacale della riete la papessa il 9 di denari carta molto bella anche questa cosa sta per accadere al segno della riete il 7 di il 7 di spade cos'altro il segno zodiacale della riete e volevo una ne sono cascare 3 il 4 di il 4 di bastoni la temperanza e gli amanti allora ti pareva nel taglio il re di coppe allora qui oddio ci possano parlare anche di altro e per carità però insomma qui c'è un re di coppe qui ci sono gli amanti quindi insomma come si dice un indizio è un caso due fanno una prova come si dice insomma ecco ma guarda ariete qui effettivamente si potrebbe anche parlare le carte ci potrebbero anche in stradare proprio su una coppia qui c'è una papessa qui c'è un re di coppe qui ci sono gli amanti l'amore insomma la coppia per eccellenza quindi qui ci sta benissimo che le carte ci stiano raccontando stiano andando lì va bene stiano andando a parare su quel su quell'argomento lì ora anche perché qui c'è l'amicizia quindi effettivamente qui ci possono parlare proprio di un rapporto che sia l'amicizia che sia un'amicizia più affettuosa più passionale più profonda questo tu lo sa fratello ora qui fanno vedere che la donna che io credo tu sia se poi però di dio come lo dirai la figura femminile del di tutto il discorso è lei quella che sta smuovendo o che ha smosso già qualcosa qui c'è un qualcosa che questa donna sta facendo con furbizia e saggezza cioè qui è come se lei avesse fatto come ti posso dire avesse un po smosso le acque per vedere poi che fa questo del di hoppe questo detto proprio in soldoni questa è la prima cosa che ti do che ti do poi qui fanno vedere anche come se ho detto un cambiamento comunque un qualcosa che che va fatto che devi fare in cui però c'è un po un po un po parecchia indecisione un si sai che faro dio si e no e trick e trick e track però ti ripeto qui mi parlano di un discorso di una coppia quindi o è un qualcosa che devi fare insieme a quest'altra persona anche se non si trattasse d'amore capisce ti voglio dire ecco perché c'è questa indecisione ora oltre a quello che ti sto dicendo qui vedo anche un sottrarsi da parte di qualcuno ad un impegno preso in special modo economico per esempio se tu devi avere dei soldi un rimborso dei soldini da qualcuno qui vedo e insomma si fanno ti fanno un pochino tribolare a riesce o viceversa magari tu li devi dare se però insomma tu cerchi di ritardare un po in momento magari con delle scuse o comunque anche se non sono scuse capito ecco prende tempo e anche quindi per un discorso di denaro ma anche per un discorso proprio una decisione in generale che tu devi prendere questo qualcosa che tu devi fare le come se tu dovessi prendere tempo prendere tempo per arrivare ad una scelta arrivare ad una scelta arrivare ad una decisione oltre a questo qui fanno vedere anche dei lavori che magari tu sta facendo che tu dovrà fare tu potresti decide di sistemare casa di rinverdire rimbellire qualcosa anche il giardino per esempio capito e ti voglio dire cioè ecco ti vedo un po pianificare un po queste cosette queste cosette qui vediamo che cos'è questo sette di spade un errore o tu hai semplicemente paura qui c'è ansia ci si sbatte ci si osa si pensa come fare perché si guadagna meno perché si lavora meno o perché si teme come posso dire di andare a lavorare e guadagnare meno capito si ha paura di sbagliare di commettere un errore oppure questo errore si è già bellicché fatto comunque qualsiasi sia la tua situazione qui vedo che tu ne esci tu ne esci proprio per bene insomma alla grande non credo che tu abbia dei danni o delle cose sinceramente no vediamo per l'ariete ma qui c'è anche un qualcosa che ti potrebbe dare pensiero che può riguardare il lavoro qui c'è un qualcosa anche sul lavoro magari questo è il timore che tu ha un po rallentato capito è come se anche se tu ti stessi difendendo dai lavoro cioè se mi spiego non sai che voglia dire poi dimmelo magari se nei nei commenti come se tu avessi rallentato tu stessi rallentando capito vediamo per l'ariete però c'è qualcosa di bello che arriva vedi qui c'è un cavaliere un cavaliere di coppe carta bella 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 bellissimissimissima molto 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 positiva quindi qui c'è comunque una buona comunicazione un qualcosa di bello che arriva un aggiustamento di situazione insomma qui e l'altro cavallo due cavalli quindi cavallo di coppe cavallo di denari quindi qui c'è la situazione che si va senz'altro ad aggiustare qui c'è la forza quindi si rifiglia forza si rifiglia passione magari se abbiamo perso un pochino ho visto sto nove di bastoni qui se abbiamo perso anche un po la come si dice oddio mi viene la parola la passione la voglia di fare ora mi viene la parola comunque capito quella passione quella non vi è la parola comunque nel nostro lavoro in quello che stiamo facendo eccetera eccetera qui senz'altro vedo la passione dovrebbe riaccendersi dovrebbe ripartire capito a riete quindi insomma io sinceramente queste carte le sono di molto belle molto belle molto positive qui ti vedo proprio puntare all'indipendenza economica che credo che tu raggiunga senza senza problemi c'è però un rapporto che ti crea un po d'ansia un po d'indecisione forse tu sei sicuro se coltivarlo o meno non tu ti fidi magari tu sei stato ferito se si parla di lavoro magari c'è una scelta da fare non sei certo se cambiare o non cambiare insomma ecco però tu mi capisci le non sono cose queste negative assolutamente tutt'altro allora con quali segni tu potresti avere più a che fare in questo periodo di tempo questo no ok qui c'è il segno del toro i gemelli la il sagittario cos'altro allora il toro viene subito richiamato e viene subito richiamato qui mi è volata la vergine i gemelli vengono confermati il l'acquario la riete ne tiriamo un altro tiriamo in un altro con quali segni zodiacali avrà a che fare i pesci il leone e i gemelli vengono confermati per la terza volta quindi pesci e leone aggiungiamoli ecco questo è un po il quadro che vedo per te a riete che è assolutamente positivo e sia chiaro fammi quindi sapere chi e cosa ti hanno richiamato queste carte cos'è che ti crea così tanto dubbio così tanta in indecisione io ti leggo naturalmente nei commenti e noi ci vediamo qua al prossimo video va bene ciao ariete eccoci qua vi lascio ai miei vino ciao ariete eccoci qua